E' improvvisamente scomparso questa mattina, probabilmente per un malore improvviso nella sua abitazione di Borgo San Giovanni, l'organista Carlo Oro. Aveva 40 anni e alternava le attività di concertista a quella di docente. Il maestro Oro, studioso di musica sacra con particolare interesse verso quella anglicana, si era laureato con il massimo di voti a Conservatorio di Rovigo e svolgeva le sue funzioni all'interno della chiesa di Borgo San Giovanni. Fin da piccolo si era avvicinato alla chitarra classica, al pianoforte, al violoncello, infine il clavicembalo e l'organo a canne. Durante la sua carriera formativa ha partecipato a numerosi seminari a masterclass, nel suo repertorio ecclesiastico anche i canti gregoriani e gli inni popolari. Ho una smisurata passione per la didattica, scriveva nel suo sito, e da sempre amo trasmettere agli altri quello che so. Incredibilmente, in relazione alle mie aspettative, sono riuscito ad attrarre molti giovani all'organo proprio in seno nell'ambiente della chiesa. Mai mi sarei aspettato una risposta così positiva da parte di bambini e adolescenti. Dopo aver prestato servizio in molte chiese, per diversi anni Carlo Oro è stato organista della Cattedrale di Chioggia, pubblicando anche il volume relativo allo strumento presente nel Duomo. Il maestro Oro, già collaboratore editoriale al settimanale diocesano Nuova Scintilla, aveva promosso anche alcune rassegne organistiche, fondando e dirigendo il coro Vittore Bellemo. Infine da ricordare l'attività, anche concertistica, della Scuola di Musica Sacra di Chioggia, intitolata Girolamo di Rutta. Carlo Oro lascia i genitori, con il padre Antonino, celebre medico ormai in pensione, e la sorella Tiziana, pure medico. Ma lascia già un vuoto incolmabile nella cultura musicale cittadina e non solo.